Alluvione ed evento eccezionale a Dubai. Il Medio Oriente e gli Emirati Arabi Uniti hanno sperimentato una fase di maltempo davvero eccezionale. Pensate che a Dubai nel mese di aprile la media della piovosità è di 7 mm. In 24 ore sono caduti 160 mm di pioggia. La pioggia che dovrebbe cadere in un anno e mezzo e quindi ci sono stati molto problemi con alluvioni lampo e allagamenti non solo a Dubai ma anche per esempio in Iran e Oman. Per quanto riguarda queste piogge c'è da dire che erano ampiamente previste già da giorni e erano previsti alcuni di 100-150 mm ma localmente si è arrivato a 200 mm di pioggia.